Con il nostro amico Ciro, il nostro grande fan di iPad device, iSpazio... Da quattro anni, ben quattro anni, da quando hai aperto... Ciro, cosa hai comprato? iPad... Quale? Che notello? 32 solo Wi-Fi, bianco. 32 solo Wi-Fi, bianco. Proprio per la capienza che... per il retina display, quindi... È importante la capienza. Certo. Adesso torni a casa, lo provi oppure vai a dormire? No, no, lo vado a provare. È la prima cosa. Un saluto a tutti i nostri. Va bene, ciao ragazzi! Sempre gentilissimi e informati sempre. Ok, grazie a te, ciao! Ciao!